Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video oggi voglio parlare di questo prodotto l'olio da barba della ProRaso 30 mg Cipresse Betiver costo sui 15-20 euro se non è scontato ovviamente che serve per la cura della barba quando è abbastanza lunghetta si mette qualche goccia e si va molto profumato veramente questo Cipresse Betiver hanno detto che la Wood Spice l'altra gamma è un pochettino meglio ma Cipresse Betiver è veramente buona ragazzi mettetevi, compratevi questo qua dalla ProRaso vedete su Amazon ci sono vedete se c'è la Wood Spice se no se c'è lo sconto sulla Cipresse Betiver prendetevi la Cipresse Betiver se c'è lo sconto sulla Wood Spice prendete la Wood Spice andate questa è abbastanza buona questa è solo un pochettino meglio ma qualcosa di eccezionale come profumazione e anche come ingrediente se mette la ProRaso si sta parlando la marca è importantissima sia italiana sia estera che c'è da tutte le parti la ProRaso niente volevo far vedere l'orietto da barba iscrivetevi al canale guardatevi gli altri video io parlo di grandissime altre cose parlo anche oltre di barba di profumi di accessori maschili vestiti soft hair videogiochi proprio di tutto motori andate per vedere gli altri video e ci vediamo presto a presto ciao ciao